Di sabato e domenica non sarà effettuata la raccolta di rifiuti nel centro storico di Fano e quella dei rifiuti domestici terrà conto dello svolgimento del mercato nelle giornate di mercoledì e sabato. Sono queste le principali novità del nuovo calendario della raccolta di rifiuti che entrerà in vigore dal prossimo 1 luglio. Il lunedì sarà la volta dell'organico, il martedì dell'indifferenziato. La carta verrà ritirata il mercoledì tranne nei giorni festivi. L'organico e la plastica il giovedì, mentre venerdì verrà raccolto di nuovo l'indifferenziato. Le utenze dovranno depositare contenitori o i sacchetti all'esterno dell'abitazione dalle 19.30 alle 20.45 e chi non avesse ancora ricevuto la vaschetta per la carta o il bidoncino per l'organico dovrà recarsi al centro raccolta differenziata in via Platani nei giorni di martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle 7.45 alle 12.30 oppure lunedì e mercoledì dalle 13.15 alle 18.00. Perché avete deciso di effettuare questo cambiamento? Venendo incontro alle esigenze dei cittadini, dei negozianti e degli esercenti e soprattutto dei turisti per godere soprattutto nel fine settimana del passeggio lungo le vie del centro. Ci raccomandiamo con gli utenti di esporre il rifiuto negli orari indicati, nei giorni indicati di non abbandonare il rifiuto e anche in caso di pioggia la raccolta viene effettuata. In questo periodo estivo, siccome abbiamo alcuni temporanei per rinforzare il servizio ci scusiamo con gli utenti se qualche volta può essere successo che magari il rifiuto non è stato raccolto negli orari o nelle giornate e è stata saltata qualche utenza e li preghiamo appunto a contattare Asset Servizi in modo tale che così possiamo provvedere. Le modifiche apportate sono il frutto di un confronto costante tra gli uffici dell'assessorato all'ambiente e i servizi operativi dell'igiene urbana di Asset Spa al fine di rendere alla città stessa un servizio efficace ed economicamente sostenibile. Come ha precisato l'assessore Mascarin si è tenuto conto delle varie esigenze degli operatori economici, delle famiglie, dei turisti, dell'igiene e del decoro. Ci permetterà di migliorare anche i risultati di quelle azioni come appunto ad esempio la deratizzazione che il Comune ha già messo in campo.